Siamo in partezza, mi ricordo che questa è la penultima gare in tiso, giovedì prossimo c'è 3.000 e poi ci sono due campestri e anche quest'anno è archiviato. Mannaggia, grazie Gigi! Siamo in partezza, è troppo scoperto, sì esatto. Siamo in partezza, è il nostro affaro, 55 minuti. Siamo in partezza, è il nostro affaro. Siamo in partezza. Siamo in partezza, è il nostro affaro. Siamo in partezza, è il nostro affaro. Siamo in partezza. Siamo in partezza, è il nostro affaro. 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 Grazie a tutti. 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 Vai Piero. Grazie a tutti. 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 e l'ultimo. Go. 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 the last one. grazie a tutti. vai. Dai che è l'ultimo. grazie a tutti. attimo giro. grazie a tutti. 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 No, 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 no. bravo Pramir vai che è l'ultimo adesso tranquillo ci sono le immagini ufficiali grande grande se c'era ancora un giro Maria ripigliavi tutti ancora un giro anche il primo un giro un giro un giro un giro un giro brava brava bravissima a letto un giro un giro un giro un giro un giro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.